Ciao a tutti amici unicornosi e bentornati sul canale! Oggi apriremo queste bambole, questi personaggi diciamo, di Harry Potter. Sono le Magical Minis. Abbiamo la Magical Minis di Minerva McGranit, la professoressa di trasfigurazione. E poi abbiamo questo pacco un po' più grande con due personaggi. Abbiamo Ron Weasley con il suo topo crosta e Genie Weasley, eccola qui, con questo animaletto che, scusate ma non so che cos'è perché non ho visto tutta la saga di Harry Potter, però è molto carino. Quindi io direi di aprire prima quella più piccola, cioè la professoressa McGranit. Poi praticamente non servono forbici perché si tira fuori dalla plastica, tranquillamente... Oh, si stacca il cappello! Ok. Bellissima! Ecco qua, Minerva McGranit. Con il cappello che si può staccare! Bellissima! Eccola! La nostra professoressa di trasfigurazione. Magari alla fine del video vi faccio anche vedere la mia collezione, che è abbastanza aumentata dall'ultima volta che ve l'avevo fatta vedere, cioè quando ho aperto il castello di Magical Minis. Ora andiamo ad aprire Ron e Genie. Allora, mi pare, però a questa servono le forbici, mi pare, solo per tagliare lo scotch, credo. Fatemi vedere. Sì, c'è lo scotch. Ok. Andiamo qui, andiamo qui. Poi abbiamo questo cartoncino che si può usare anche come piccolo scenario per fare punta che è un'aula, qualcosa di simile. Ed ecco qui i nostri personaggi. Andiamo a levarli dalla plastica. Allora, i geni. Abbiamo i piedi legati, da qui che vedo. Infatti, avevo fatto un po' fatica. Allora, questa qua è la... Eh, se è la, è la geni. Questa qui è geni, carinissima. E ho visto, mi sono accorta che avevano un laccetto che gli legava i piedi. Quindi, stavolta Ron glielo tagliamo. E ora si tira... Uh, fuori. Ok. Quest'altro è Ron. Ecco qua i due fratelli. Sono fatti davvero carini. Ora però andiamo a prendere i loro animaletti. Andiamo il topo crosta. Eccolo. Che è il topo di Ron. Oh, non si regge in piedi. Vabbè. Poi questo animaletto fuzio, che come vi ho detto, ho guardato molti film della saga di Harry Potter, ma non li ho visti tutti. Quindi non so questo animaletto come si chiama, però è di geni, immagino. E credo che vada qui. Ok, sì, così. Carino! Oh, che carini insieme! Vediamoli. Bene. Uno e due. Molto, molto carini insieme ai loro animaletti. Poi qua abbiamo anche la nostra professoressa di trasfigurazione. E ora direi di andare a prendere la mia collezione. Così ve la faccio vedere che ho avuto qualche personaggio in più. Allora. Qui abbiamo la mia collezione. Allora. Voi mi pare eravate rimasti a sapere che avevo questi personaggi qui. O forse anche di meno. Non mi ricordo sinceramente. che quindi abbiamo Harry, Hermione, Ron, con la sciarpa e il mantello. Come vedete. La sciarpa e il mantello. Che la sciarpa ovviamente si può levare. Posso metterla anche a Harry, a Luna, a chi mi pare. Mentre questo, come vedete, è senza il mantello e la sciarpa. Però possiamo ovviamente mettere anche a lui la sciarpa. Poi abbiamo Cho Chang, eccola qui, che si trovava nel pack due personaggi con Harry. Infatti questo sfondo è lo stesso di prima, perché nel pack due personaggi è sempre questo lo sfondo. Poi abbiamo Luna Lovegood. Poi qui c'è Edwige, che usciva nel set Cho Chang e Harry Potter. E poi abbiamo Albus Silente, il preside ovviamente. Ma, come avrete visto prima, c'erano altri due personaggi qui che ho levato dalla scatola. Qua si intravedono i capelli. Allora, come prima abbiamo Severus Piton, il professore di pozioni. Molto, molto bello. E poi questo, che sono super felice di averlo trovato, un po' come la My Granite, perché anche questa era introvabile. Cioè, non la trovavo separatamente. La trovavo solamente in un set dove si trovavano tipo Albus, Silente, Luna e altri. E quindi, pure quest'altro, sono felicissima di averlo trovato, visto che era introvabile. Abbiamo Draco Malfoy. Sono super, super felice. Ora, credo, le storie che farò con queste bambole diventeranno molto più divertenti. Ora che ho anche Draco, che, per chi non lo sapesse, è l'antipatico della scuola di Serpe Verde. E quindi, sono super felice di averlo. E quindi, questa è la mia collezione. Diciamo, è molto completa, mi mancano pochi personaggi e diciamo che ce li ho tutti. Mancano Lupin e... Pochi. Neville e Fred e George. Poi dovrei averli tutti. Diciamo che questa collezione di bambole mi piace un sacco, quindi la colleziono molto, con molto piacere. Però, quelle che abbiamo aperto oggi, sono queste. Amici unicornosi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!